... Oggi inizia Let's Publish, un laboratorio dal basso in collaborazione con Arti Puglia e Spazio 314. Spazio 314 siamo noi, Marco Spinelli, Annalisa Lazzoi, Lorenzo Papadia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi che siete qui. Benvenuti. Buon laboratorio. Grazie a tutti. Ok, ciao a tutti, io sono Domenico Centrone, non vorrei dividere i tre quattordici. Sono Domenico Centrone e faccio parte dello staff di Laboratori dal basso. Sono qui a portarvi innanzitutto il benvenuto e a dirvi grazie per essere qui, grazie naturalmente ai docenti e soprattutto grazie agli organizzatori. Perché come sapete il Laboratorio dal basso è un'iniziativa rivolta alle giovani realtà pugliesi, associazioni o micro imprese. In questo caso l'associazione Spazio 314 che ha voluto questo laboratorio. Non so se sapete un po' come funziona, se avete mai sentito parlare di laboratori dal basso, un po' come funziona l'iniziativa e quali sono le finalità dell'iniziativa. Brevemente due parole, ve la spiego. È un'azione di supporto, come vi dicevo, alle giovani realtà pugliesi ed è supporto come? Non un supporto in termini economici e finanziari, ma un supporto di tipo conoscitivo, formativo. Quello che vogliamo fare con Laboratori dal basso è dare la possibilità a tutte le giovani realtà di poter accrescere le proprie competenze per meglio fare quello che già fanno, acquisendo conoscenza, quindi identificando dei veri e propri percorsi di apprendimento sulla base dei propri bisogni di apprendimento, identificando quindi quelle che sono le tematiche da approfondire, identificando quelli che sono i docenti, identificando anche le modalità formative. Quindi un approccio totalmente dal basso, ecco l'essenza di Laboratori dal basso sta nel nome stesso, sono dei laboratori creati per l'appunto dal basso, da voi. Voi avete la possibilità di progettare il vostro percorso di apprendimento per meglio fare quello che già fate. Laboratori dal basso si divide in tre iniziative, Laboratori, Testimonianze e Mentoring. Testimonianze sono dei cicchetti di laboratori, mentre i laboratori sono percorsi strutturati di apprendimento. Testimonianze sono degli incontri one shot, cioè brevi incontri, con testimoni eccellenti nell'ambito dell'innovazione e dell'imprenditoria, in qualunque settore. Voi li identificate e noi ve li portiamo qui sul territorio pugliese, affinché contaminino il territorio con la propria esperienza. E la terza iniziativa è Mentoring, un percorso di affiancamento tra giovani realtà e invece persone senior, che hanno già fatto e hanno già un'esperienza nello stesso settore della giovane realtà. Quindi è una condivisione, uno scambio di conoscenza tra chi ha già fatto qualcosa di rilevante, tra chi ha già esperienza e chi invece nelle prime fasi, quindi in uno stato primordiale di vita. C'è da dire che Laboratori e Testimonianze sono due avvisi attualmente conclusi. Abbiamo ricevuto circa 120 candidature di laboratori, attualmente ce ne sono in corso una decina. Vi invito a seguire quelli che sono i nostri canali, ci sono laboratori in molti settori, quindi potreste trovare altri laboratori di vostro interesse. Seguite il nostro sito internet, la nostra pagina Facebook, oppure io sono comunque qui disponibile, siamo anche su Skype, ci potete contattare in vari modi. Quindi i laboratori e testimonianze sono attualmente chiusi, stiamo pensando a una nuova programmazione nel 2014, invece attualmente è ancora aperto il programma di mentoring, quindi se avete bisogno di maggiore informazione io mi trattengo qui ancora un'oretta. Del resto che dire, buon laboratorio, grazie per essere qui e divertitevi. Salve a tutti, io sono Francesca De Palma, le Maria Rosaria Di Gregorio e lui è Silvio Lorusso. Abbiamo deciso di dividere il nostro intervento in quattro argomenti, l'editore self-publishing e pubblicare, scrittore, progettista e lettore utente, gli strumenti, il rapporto tra testo e supporto, l'analogico-digitale e la produzione, e infine la tiratura, la distribuzione e la diffusione. Inizio presentandomi. Inizio a parlarvi della mia tesi di laurea specialistica che appunto ha affrontato il rapporto tra l'autore e il grafico nella progettazione del libro. La tesi è divisa in tre parti, la prima riguarda strettamente il rapporto dell'autore con il supporto delle proprie pubblicazioni, quindi un breve percorso storico di questo rapporto. Successivamente ho affrontato il rapporto del grafico con l'autore nella progettazione del libro e questa ricerca è sfociata in un progetto che ho realizzato insieme a Maria Rosaria per la casa editrice Caratteri Mobili, una raccolta di poesie di cui vi parleremo più avanti. Il percorso di ricerca sul libro e sul rapporto dell'autore e del progettista nella sua progettazione è iniziato con un blog che ho iniziato insieme a Silvio chiamato Marginalia in cui raccoglievamo ricerche e spunti sul libro e sui esperimenti sviluppati su questo tipo di supporto. Un altro passaggio nella ricerca sul supporto libro è stato il laboratorio e il manuale di legatoria Mani Cucite, realizzato insieme a Zabar in cui abbiamo cercato di avvicinare sia grafici che non grafici alla legatoria e quindi a ragionare sul supporto libro e sulla legatura. Buonasera, io sono Maria Rosaria Di Gregorio e faccio parte di Zabar. Zabar è un gruppo aperto di designer per lo più progettisti grafici che si interessano soprattutto di autoproduzione, autoprogettazione, riuso di materiali, recupero. Come associazione siamo nati con Principi Attivi 2010 e il nostro interesse principale riguarda mettere a punto delle sperimentazioni, dei laboratori, delle ricerche su tecniche e strumenti utilizzabili per l'autoprogettazione finalizzata soprattutto all'editoria, per l'autoproduzione finalizzata soprattutto all'editoria. Nel corso di questi primi tre anni di vita abbiamo sviluppato una serie di progetti come ad esempio Bioritmo, che era un progetto di identità visiva per un ecofestival realizzato perforando materiali di recupero, cartoncini recuperati dai mercati rionali e poster di rimanze di elezioni. Un altro laboratorio che abbiamo realizzato durante il corso dell'anno, degli anni passati, è ReadyType Made, durante il quale abbiamo provato ad utilizzare oggetti ritrovati come i timbri per realizzare degli alfabeti, oppure esperimenti con gli stencil, tecniche di stampa più analogiche. All'interno di questo percorso operazioni manicucite e due laboratori di legatoria hanno rappresentato un punto abbastanza importante perché in seguito alle sperimentazioni, alle esperienze più pratiche, più personali anche, abbiamo deciso di riordinare dei materiali che erano stati sviluppati e di ripensare ad una pubblicazione di questi materiali. L'aspetto più interessante che ritorna sempre nel modo di operare di Zabar è un'attenzione alla collaborazione. Infatti il manuale è stato progettato da sei persone diverse, non tutte facenti parte inizialmente del gruppo, alcune delle quali poi hanno continuato a farne parte, come per esempio Francesca. Credo che sia tutto come presentazione. E passo la parola a Silvio. Ciao a tutti, io sono Silvio Lorusso, sono attualmente dottorando presso l'Università di Venezia dove porto avanti una ricerca che indaga le relazioni tra editoria e tecnologie digitali. Non a caso non parlo di editoria digitale perché ciò limiterebbe la mia ricerca solo ad esperienze in cui i contenuti editoriali vengono fruiti attraverso ebook e di reader. Ma io al contrario sono interessato anche a esperienze che sfociano in libri cartacei. Ho pensato dunque di presentarmi attraverso un progetto, un progetto che ho recentemente sviluppato in collaborazione con Sebastiano Schmier che è un artista tedesco. Il progetto si chiama Network Optimization e scusate, dovrò prenderla alla lontana. Dunque questa è una piattaforma di Amazon. Amazon è la piattaforma per acquistare libri e beni di consumo di ogni tipo. In questa piattaforma ciò che questa piattaforma permette è di guadagnare pochi centesimi compiendo delle operazioni che per un computer risultano molto complicate. Ad esempio riconoscere all'interno di una foto molto buia un piccolo oggetto oppure dedurre il senso di una frase. Quindi molta gente, specialmente nei paesi in via di sviluppo, si guadagna, se non proprio da vivere, si guadagna qualche centesimo per l'appunto attraverso questa piattaforma, iscrivendosi e compiendo i micro lavori che gli vengono propinati di giorno in giorno. La piattaforma si chiama Mechanical Turk, che sta per l'appunto letteralmente per turco meccanico. Il termine originariamente viene da questo finto automa, non ho resistito a inserire questa immagine. Si trattava di un finto automa che era in grado di giocare a scacchi, prodotto durante nel Settecento. In realtà era finto poiché all'interno era nascosto uno scacchista reale, in carne ed ossa, che praticamente muoveva le braccia del turco meccanico. Passando di nuovo alla contemporaneità, c'è una funzione all'interno del Kindle, l'e-reader di Amazon, che permette di vedere tutti i passaggi di un dato libro più sottolineati dalla serie di utenti che per l'appunto hanno acquistato tale libro. Dunque, in un certo senso, come potete vedere, questi due aspetti della compagnia in un certo senso convergono, con l'unica differenza è che gli utenti di Amazon, gli utenti del Kindle, in un certo senso non compiono un micro lavoro, però a differenza di quelli di Mechanical Turk non vengono pagati. Dunque, abbiamo pensato di... eravamo affascinati da questo tipo di logica, quindi abbiamo deciso di creare una serie di libri, portando alle estreme conseguenze questo sistema. La serie di libri parte da alcuni libri che hanno come tema quello del self-help, che in italiano si potrebbe dire di autoapprendimento. Sono dei libri che in teoria dovrebbero servire a ottimizzare le prestazioni dell'individuo. Quindi abbiamo deciso di ottimizzare a nostra volta questi libri, tenendo all'interno del libro cartaceo solo le parti sottolineate dalla maggior parte degli utenti. Quindi sono libri ottimizzati per ottimizzare le performance dell'individuo. E qui potete vedere il frontespizio in cui sono segnalati il numero di sottolineature disponibili, il momento in cui tale libro è stato acquistato, il contenuto di un libro per l'appunto. Questa è una pagina d'insieme. La maggior parte di pagine ovviamente sono vuote, perché Amazon mantiene solo i primi dieci highlight più popolari. Qui potete trovare una copia che magari potete vedere successivamente. Il progetto di ricerca all'interno del dottorato si intitola provvisoriamente Post-Digital Publishing Archive e tiene insieme questi due aspetti. Qui trovate una sorta di abstract del progetto. Per chi fosse interessato potete acquisirne gratuitamente delle copie, magari successivamente. E c'è anche un Tumblr, un blog, dove porto avanti quotidianamente questa ricerca e potete trovare diversi esempi in cui le tecniche analogiche e digitali si scontrano in un certo senso e diventano l'oggetto stesso della ricerca di diversi artisti e designer. Bene, ripasso la parola a Francesca. Allora, iniziamo quindi dal primo argomento che è appunto l'editore, l'editoria, il pubblicare per arrivare poi alla definizione del self-publishing. Volevo iniziare da questa definizione di Chartier Cavallo, presa da storia della lettura nel mondo occidentale, perché ci pone una riflessione interessante. Cioè, gli autori non scrivono libri, essi scrivono testi. Nel senso che un testo in sé non è già un libro. Per diventare un libro deve subire svariati passaggi. Gli deve essere prodotto intorno un supporto materiale. Questo supporto materiale non è detto che sia prodotto dall'autore stesso. Il verbo pubblicare contiene in sé il destinatario di quello che sarà la produzione di un autore, cioè il pubblico. Quindi questo passaggio dall'autore al pubblico è supportato dal supporto di mediazione, che è appunto il libro. Inizialmente gli autori avevano maggiore controllo sulla pubblicazione dei propri testi. In quanto, per esempio, nello scrittorio medievale, l'autore dettava direttamente agli scriba, agli amanuensi, il testo, che successivamente veniva da lui in prima persona, revisionato e ricontrollato, di cui poteva anche gestire la versione grafica. Successivamente con l'arrivo della stampa, il controllo grafico e anche del supporto cartaceo si perde, in quanto la produzione del libro in sé passa nelle mani degli stampatori, che sono quindi gli unici possessori della tecnica e della stampa, e il rapporto tra l'autore e il supporto finale, cioè il libro, viene separato. Quindi la tipografia, da una parte, ha aiutato ad aumentare la diffusione della conoscenza, perché era più facile la produzione di un libro e si poteva pubblicare in maggior numero di copie. Da un altro punto di vista, ha separato sempre di più l'autore dal testo, dalla versione finale del suo testo. Un'altra figura che si affianca allo stampatore è quella dell'editore, che inizialmente corrispondono, cioè gli stampatori sono anche editori, nel senso che scelgono cosa stampare e cosa diffondere. Successivamente, invece, la figura dell'editore diventa principalmente un commerciante, cioè colui che deve trovare il modo per scegliere dei testi che possano essere interessanti per il pubblico che ha deciso a priori, per il pubblico che ha scelto. Quindi, diciamo, la figura dell'editore può essere legata a tre verbi molto semplici, come scegliere, produrre e distribuire. Quindi gli editori hanno il compito di scegliere, in una casa editrice arrivano dei testi che vengono, prima di tutto, letti dall'editore, e l'editore è la persona incaricata di scegliere se un testo è atto alla pubblicazione o meno. E può anche suggerire delle modifiche che possono giovare all'autore, ma possono anche stravolgere l'opera iniziale di un autore. Successivamente, l'editore si occupa della produzione, quindi del testo, e infine di distribuirlo. Quindi l'editore si pone come mediatore tra l'autore iniziale e il potenziale lettore. E questo fatto di mediazione può modificare l'edizione di un libro, caratterizza ogni edizione di un libro, in quanto ogni edizione... La prima lettura, che è quella di scelta, che però vede appunto a scegliere la scelta iniziale dell'autore, che non sempre corrisponde con la scelta iniziale dell'autore, che può essere anche modificata per questioni di marketing, e successivamente il testo viene impaginato e viene realizzata la copertina. Queste ultime due fasi sono legate alla figura del grafico. Quando l'autore corrisponde con la figura dell'editore abbiamo il self-publishing, cioè l'auto-editoria, insomma. Quindi, riprendendo la definizione da cui avevamo iniziato, gli autori non scrivono libri e si scrivono testi, Invece, nell'auto-editoria, gli autori fanno libri, cioè si interessano anche della veste materiale del loro testo. Un esempio potrebbero essere le edizioni futuriste di poesia, in cui Filippo Tommaso Marinetti, il suo autore, si dedica alla pubblicazione dei propri testi, curandone la tipografia e anche la veste grafica, sia per le proprie pubblicazioni, sia per le pubblicazioni degli altri autori futuristi, diventando quindi anche editore. Un esempio interessante di auto-editoria, quindi di autore che corrisponde con l'editore, è l'antilibro, che è un processo iniziato da Pirella, Sanguinetti, Gillo Dorfles e Mario Persico nel 1995, che prevedeva l'autoproduzione di testi con materiali molto poveri o semplicemente affidandosi alla diffusione tramite web. Quindi l'autore si impossessa degli strumenti di produzione del desktop publishing, quindi il computer e la stampante, e può progettare da sé l'impaginazione del proprio testo e stamparlo con mezzi alla sua portata e distribuirlo sia personalmente che cercando di renderlo attraverso le librerie. Un esempio di antilibro è il libretto di Sanguinetti con dei versi che si tratta sempre nel 1995 e che lui distribuisce all'interno del primo evento del gruppo dell'antilibro nel 1995 dove quel libretto viene stampato in diretta grazie anche alla collaborazione con l'Axerox che fornisce una stampante DocuTech che provvede sia alla stampa che alla rilegatura in tempi molto brevi e viene distribuito all'interno dell'evento e messo a disposizione online per due mesi soltanto per due mesi perché appunto i testi contenuti in questo libretto sarebbero poi stati pubblicati con una casa editrice in cui c'è la Feltrinelli e quindi per professione di copyright la diffusione è stata limitata solo a due mesi. Questo è un altro esempio di antilibro di un altro editore cioè Andrea Nardi che raccoglie alcuni sui scritti e in pratica tutti gli editori gli autoeditori come Andrea Nardi ogni volta che pubblicano degli antilibri quindi sottoscrivono il manifesto creato da Pirella e gli altri e lo indicano sempre nelle loro pubblicazioni quindi facendo parte di questo sistema di ideali editoriale. Passo la parola a Sari. Un'idea che personalmente trovo un'idea di editoria, di autoeditoria che personalmente trovo molto affascinante è un'idea che proviene da Fake Press che è un gruppo artistico un gruppo di sperimentazione che si interessa di editoria e di possibili futuri scenari dell'editoria a partire dalle nuove tecnologie. Durante una conferenza di qualche anno fa che mi è capitato di seguire loro dissero una cosa che mi è rimasta molto impressa che continuo a considerare molto suggestiva pubblicare significa diffondere informazione nel senso più ampio possibile quindi anche per esempio accendere o spegnere una luce può essere considerato un atto editoriale chiaramente questo allarga a dismisura i confini di ciò che può essere considerato editoria però include anche all'interno di ciò che può essere considerato una pubblicazione oggetti che non sono necessariamente libri possono essere degli spazi può essere qualunque superficie in grado di diventare display di contenere delle informazioni questo dal punto di vista del self publishing mi sembra molto rilevante perché molto spesso decidere di autopubblicare qualcosa significa appropriarsi di uno spazio che può essere cartaceo ma può anche essere uno spazio fisico ed è ed è appunto un atto abbastanza invasivo perché comunque cerca di defilarsi dai canali distributivi produttivi ufficiali in questo caso nel caso di fake press un altro aspetto estremamente suggestivo è che l'editore diventa più che altro colui che non seleziona i contenuti ma crea delle piattaforme utilizzabili anche da altre persone per proporre i propri contenuti personali come ad esempio accade con l'antilibro di Pirella un progetto un loro progetto che spiega molto bene queste tutti questi questi pensieri e queste queste riflessioni rispetto all'editoria è squatting supermarkets praticamente squatting supermarkets è un'applicazione è una piattaforma sviluppata da da fake press che permette di associare ai logotipi presenti sulle scatole dei prodotti all'interno di un supermercato delle informazioni ciascuna ciascun acquirente ciascun utente è in grado di pubblicare informazioni relative ad un prodotto che possono essere suggerimenti all'acquisto ma anche anche cose negative su quel prodotto cose che normalmente magari l'azienda non sarebbe interessata a diffondere ma che invece dal punto di vista dei consumatori può essere utile utile sapere appunto ripeto per me quest'idea di sviluppare piattaforme per l'auto-editoria per l'auto-pubblicazione è un aspetto del self-publishing che comunque mi sembra estremamente interessante un'altra un'altra accezione che sento molto vicina è quella che in genere chiaramente portiamo avanti con Zabar che è un diciamo una un'accezione molto molto pratica molto sì molto pratica nel senso è un in passato il termine auto-editoria è stato spesso associato a autori che per mancanza di un editore si autofinanziavano autofinanziavano la pubblicazione delle proprie opere quindi un'accezione di auto-editoria estremamente legata all'aspetto economico mentre quello che cerchiamo di sviluppare è un'accezione di auto-editoria che è più legata all'appropriarsi dei mezzi di produzione in modo tale da poter controllare i processi non controllare in senso autoritario però essere come dire consapevoli dei processi produttivi per poter intervenire in ogni singola fase ogni qual volta si pensa si possa apportare un miglioramento o anche si possa trovare un modo non già standardizzato di ottenere un risultato questo sul self-publishing in generale un esempio legato all'editoria in cui il self-publishing e l'auto-editoria è molto presente è tutto il fenomeno del fotolibro i fotolibri chiaramente esistono non sono una non sono una novità non sono nati negli ultimi anni però di certo negli ultimi anni la pratica da parte dei fotografi di produrre fotolibri per presentare i loro lavori è una pratica che sta riscuotendo sempre maggiore interesse sempre maggiore diffusione sia all'interno sia tra i fotografi sia tra i grafici che spesso collaborano con i fotografi ma anche con i collezionisti non è un caso che FOAM una delle più importanti riviste internazionali di fotografia l'estate scorsa abbia dedicato no quest'estate abbia dedicato un in che mese siamo? forse si trattava della primavera comunque non è importante di recente ha dedicato un numero un'edizione ai dammi ai prototipi di fotolibro oggi abbiamo portato anche una copia della rivista che poi potrete sfogliare sì grazie praticamente è strutturata come una è una cartella all'interno della quale c'è una ci sono i sette fotolibri selezionati all'interno del questo non è un fotolibro questo è quello sì quello è un fotolibro e questo invece è la parte che contiene gli scritti critici e le presentazioni dei vari fotolibri le biografie degli autori le interviste questi fotolibri sono stati selezionati durante la Unseen che è il festival di fotografia di Amsterdam che lo scorso anno ha dedicato un'intera sessione al fotolibro e ha istituito questo concorso per prototipi di fotolibro all'interno del quale il primo scelto vinceva la pubblicazione del libro appunto ciò che è molto interessante leggere soprattutto nella parte critica permette secondo me di portare alla luce tutta una serie di contraddizioni di problematiche legate all'autoeditoria ad esempio nel caso di questi fotografi alcuni dei libri presentati avrebbero tranquillamente potuto essere autoprodotti però molti di loro preferiscono appoggiarsi ad un editore tradizionale anche per una questione di distribuzione allo stesso tempo però ci sono stanno nascendo delle piattaforme che oltre a fornire un sostegno pratico alla alla stampa alla produzione alla rilegatura forniscono anche un sostegno per la distribuzione cercando in questo modo di facilitare il processo distributivo che a volte può essere molto complesso e che invece nel caso di un editore più affermato può essere facilitato questa è un'immagine dei vari libretti un altro aspetto molto interessante che emerge è quello della matericità del libro quando si decide molto spesso quando si decide di realizzare un fotolibro tutti gli aspetti dedicati al tutti gli aspetti inerenti alla matericità del libro vengono considerati la tipologia di carta il tipo di formato il tipo di rilegatura ognuno di questi aspetti risulta spesso significante rispetto al contenuto che veicola e a mio avviso è una una tendenza molto interessante che spesso nell'editoria più tradizionale non è così molto spesso manca ci sono chiaramente delle eccezioni ci sono ci possono essere delle c'è un'attenzione di ci può essere un'attenzione diversa però dal punto di vista anche grafico anche semplicemente grafico anche semplicemente del fare libri sono una realtà molto vivace in cui tutti questi aspetti vengono considerati valorizzati e la versione cartacea del libro la versione stampata assume una ha una sua autonomia una sua autonomia progettuale una sua autonomia anche come oggetto questo è un estratto del del testo introduttivo del testo introduttivo di Dammi in cui emerge anche un altro aspetto interessante che poi analizzeremo dopo e cioè il fatto che molto spesso un libro felice un progetto editoriale felice si ha quando c'è un buon dialogo tra l'autore in questo caso il fotografo e il grafico passo la parola a Silvio bene su questo tema del self publishing vorrei partire da un presupposto ovvero che le tecnologie impiegate per creare per sviluppare per produrre quello che chiamiamo un libro sono cambiate in maniera rivoluzionaria durante gli anni infatti i due esempi che vedete qui li chiamiamo entrambi libro il primo è una stampa di Aldo Manuzio considerato da molti il libro più bello mai stampato non so se Saria tu confermi non per te ok mentre lo dicono tutti mentre quello in sovrapposizione è considerato anzi è il primo paperback prodotto dalla Penguin entrambi li chiamiamo libri eppure hanno degli scopi delle audience dei contesti completamente diversi quindi è lecito chiedersi quali sono le tecnologie che hanno favorito in un certo senso l'emergere del self ovvero un grado di indipendenza da parte dell'autore in termini di come dicevano entrambe di pubblicare di produrre di distribuire i propri contenuti dunque quelle che vedete qui sono sono tre precursori della nostra fotocopiatrice il primo è un ectograph il secondo è una mimeograph e la terza è una ditto machine più o meno compiono la stessa funzione che è quella di riprodurre in breve tempo un dato contenuto è interessante notare forse non riuscite a vederlo che per quanto riguarda la prima di queste macchine lo slogan utilizzato è molto simile degli slogan che ancora oggi risuonerebbero attuali ovvero ogni uomo con la sua propria stampante che suona un po' come il motto di Bill Gates in ogni casa un personal computer oppure una 3D printer in ogni casa cose del genere la mimeografia è interessante perché è stata brevettata da Edison mentre la ditto machine ha questo aneddoto che praticamente essendo basata su un alcol etilico era pericolosissima per la salute ogni stampa praticamente puzzava terribilmente di alcol e stampava in lilla passando a quella che è più vicina a noi come macchina abbiamo la Xerox la fotocopiatrice è interessante che in tutte le immagini dell'epoca a differenza dei computer l'utente privilegiato di questo tipo di macchina era sempre una donna e questa cosa non saprei proprio spiegarmela forse avete delle idee al riguardo la segretaria l'idea della segretaria e sì mi sa che è un dato di fatto dunque l'aspetto interessante è che la fotocopiatrice insieme al mimeograf perché per un breve periodo di tempo hanno diciamo convissuto queste due tecnologie sono state diciamo queste tecnologie sono state appropriate da parte di sottoculture in particolare quella punk e c'è stato un vero e proprio boom delle zine autoprodotte che sono diventate proprio un elemento significativo di questa cultura molto spesso un membro di una band punk aveva le sue le sue due tre zine che magari pubblicava e anche ridistribuiva perché un aspetto chiave era quello che ognuno aveva la libertà di riprodurre la zine della band amica eccetera con l'obiettivo di diffondere il più possibile questi contenuti interessante anche l'utilizzo della macchina che si faceva ovvero l'inclusione all'interno delle zine stesse di un'estetica della macchina ad esempio l'idea di fotocopiare più volte una stessa pagina per fare scomparire pian piano il segno per renderlo più rude diciamo e vorrei fare un piccolo excursus relativamente al contemporaneo non so quanti di voi conoscono Tumblr o lo utilizzano secondo me le somiglianze tra queste due tecnologie diciamo la struttura che le determina sono sconvolgenti in quanto entrambe condividono un'idea in cui l'estetica della macchina è incorporata nei contenuti che si producono infatti vabbè in questa slide non lo vedete però su questo Tumblr in particolare il cursore diventa diventa il pointer di Google Map eccetera eccetera inoltre grazie a strumenti diciamo dispositivi come il reblog button si favorisce questa idea di mescolare contenuti di altri utenti con i propri creando una sorta anche a livello puramente formale una sorta di zine in continua evoluzione beh l'innovazione principale successivamente a successivamente alla fotocopiatrice è stata senza dubbio come è stato già affermato quella del desktop publishing che tuttora diciamo non tende a scomparire è molto interessante che questo libro è dell'86 vedete qual è il sottotitolo e come potrebbe essere assolutamente contemporaneo using personal computer to publish it yourself quindi c'era già da allora c'era questa ideologia questa volontà di appropriarsi degli strumenti anche quelli standard in un certo senso è stata una sorta di maledizione per i grafici perché gli strumenti di desktop publishing rendono molto più difficili quando parlo degli strumenti di desktop publishing non è una cosa astrusa parliamo semplicemente di word open office in design anche in design è un po' più complicato il dramma con gli strumenti di desktop publishing scusate l'inciso tecnico però penso che sia interessante il fatto che non permettano di strutturare o quantomeno non spingano a strutturare il contenuto in maniera semantica quindi quello che succede è che da parte di uno che deve organizzare i contenuti in un dato libro si perde si perde un po' la struttura bisogna ricostruirla di volta in volta e quindi è difficile poi ottenere nuovi formati ottenere formati digitali insieme a quelli analogici bisogna fare più volte lo stesso lavoro da capo vorrei mostrarvi questo video che secondo me rappresenta il successivo step in questa evoluzione delle tecnologie del self nominate così da me un attimo solo scusate che mi mi sono perso tra le cartelle eccolo qua no vediamo se funziona screenshot forse ce lo perdiamo mi sa dici di sì eh avanti tanto potete godere avanti avanti sì sì tutto quello che volete catalogo multimediale in corso non l'avevi mai aperto era partito è andato dietro eccolo qua vediamo oh non c'è l'audio dovevamo abitare eh pensavo che fosse scontato va bene lo rimando tanto dura un secondo e attivo l'audio forse non manca il codec o qualcosa del genere va bene se no ve lo doppio tanto dura un secondo allora lui dice I'm gonna do an internet e lui dice I'm gonna do a book schiaccia il tasto non succede niente rimane profondamente deluso ora perché io considero questo video lo mostro spesso devo confessarlo e con l'audio vi assicuro che è molto più bello però ehm perché considero questo video significativo perché generalmente nel dibattito tra ehm nel dibattito sull'editoria sul digitale i due contendenti sono l'ebook e il libro cartaceo mentre questo video fa un passo oltre e pone come contendente come diciamo agente che ruba tempo e spazio a al libro la rete ed è interessante questo perché la rete non cambia non crea non permette solo di sviluppare i propri book ma crea anche nuovi spazi e nuovi canali in cui inserire i propri contenuti come si diceva per l'appunto prima dunque ehm fatto questa breve panoramica quali sono le prospettive in termini editoriali grazie eh determinate da questi shift tecnologici allora ehm non c'è bisogno di leggerla tutta ehm Mike Chetzkin che è un un grande esperto di editoria almeno da vent'anni sul eh nel campo sostiene e la questione non è molto lontana dalla realtà come potrete immaginare che eh l'editoria sta diventando una funzione più che un'industria questo ovviamente fa tremare le scrivanie di tutti i publisher gli editori italiani e non che cosa si intende con questo eh si intende che ogni eh istituzione dal supermercato al eh all'università degli studi avrà eh il suo il suo piccolo la sua piccola attività eh laterale che è quella editoriale perché sarà così semplice perché non c'è investimento da fare per pubblicare ad oggi un libro non c'è si può si può spendere zero eh perché tecnicamente è molto semplice soprattutto nel caso in cui si vogliano pubblicare eh libri standard nel senso eh quando dico standard intendo libri che eh magari contengono solo testo hanno una struttura eh a livello di immagini molto eh molto semplice molto lineare l'esatto opposto di quello che fa Zabar dire posso aggiungere ah certo ehm rispetto a quello che stavi dicendo mi è venuto in mente un un aneddoto eh lo scorso anno eh c'è stato un un altro progetto di principi attivi ehm pop Puglia che ha realizzato un un'indagine sul sul panorama editoriale pugliese realizzando poi un un libro che ho dimenticato di portare me ne sono ricordata adesso che poteva essere utile e ehm raccogliendo in questo libro tutta una serie di statistiche su appunto il gli editori gli editori le librerie le biblioteche presenti in Puglia una cosa molto interessante è che eh loro si erano trovati di fronte ad una lista infinita di case editrici dico così perché loro poi alla fine non li hanno considerati case editrici però in realtà eh forse avrebbero dovuto farlo eh case editrici che però di fatto erano eh asl di quartiere parrocchie eh tutta una serie di piccolissimi eh circoli eh che eh nel corso del tempo avevano prodotto uno o due titoli e quindi non loro non li avevano considerati delle vere e proprie dei veri e propri editori delle vere e proprie case editrici perché non avevano eh perché diciamo la eh un certo numero di libri pubblicati eh almeno nell'arco di un anno era per loro una caratteristica fondamentale però eh come dire se erano dati questi eh questi parametri eh li avevano autodefiniti eh potrebbe essere interessante magari rifare lo stesso sondaggio includendo anche questi eh tutti questi micro editori che però eh avevano in quel caso pubblicato in maniera molto ehm standard affidandosi a stampatori tipografie tirature anche medio elevate per ogni singolo titolo perfetto no quindi diciamo in un certo senso stai dicendo che la visione di Shatskin si è in un certo senso avverata si è già è già è in corso anche io penso di essere d'accordo ehm ecco dunque c'è una visione ancora più catastrofista da questo punto di vista quando dico catastrofica catastrofista intendo dire da parte degli editori quelli eh quelli soli quelli che hanno una eh una preparazione in questo campo ed è quella di Clay Shirky che va ancora oltre e sostiene che l'editoria non è più un lavoro è un pulsante c'è un pulsante su un sito web che ti che sul quale c'è scritto publish basta premerlo per effettivamente pubblicare un libro ora eh vorrei eh cercare di ribaltare la questione perché messa su questo piano sembra che non ci sia più speranza per chi vuole fare editoria magari con un introito dunque pongo la la visione invece che propone Roberto Calasso che è l'editore storico di Adelphi in un bellissimo libro che si chiama appunto l'impronta dell'editore che non è quello ma è uguale quindi no non è uguale contiene il saggio ah quindi è anche qui contiene il saggio dove dove è espresso questa idea dunque secondo Calasso l'editoria può essere guardata come una forma ovvero la capacità di dare forma a una pluralità di libri come se essi fossero i capitoli di un libro unico e qui torniamo alla definizione classica di editoria ovvero come selezione come filtro e capite bene che questo tipo di visione è molto vicina a quello che si fa costantemente sul web nel momento in cui si rituita un dato contenuto in un certo senso ognuno è editore o curatore dei contenuti con i quali viene a contatto quotidianamente ora ho cercato due esempi che rappresentassero queste due visioni queste due visioni che potremmo dire contrapposte ma forse non lo sono fino in fondo dunque uno è un progetto artistico di Carolis Cosas che si chiama Anonymous Press se internet ci aiuta forse potremmo vederlo fare un libro al momento sarebbe meraviglioso vediamo altrimenti ve lo dovrò semplicemente puramente raccontare o farlo vedere va bene dai ci siamo va bene praticamente questo progetto gioca sulla sull'idea del sul boom delle zine che si è riavuto ai giorni nostri e permette appunto di pubblicare la propria zine che poi può essere direttamente acquistata al prezzo di 3 dollari in questo modo vediamo allora ovviamente let's publish no? basta inserire un titolo basta inserire un titolo e se c'è internet se lo permette ci crea la fanzine grazie a google che è sempre nostro amico e ci fornisce le immagini sulla chiave di ricerca già impaginata è tutto quindi porta persino oltre l'idea l'idea proposta dai precedenti studiosi perché il pulsante non serve solo a produrre il libro bensì a ok a produrlo nel senso di scegliere i contenuti che sono al suo interno e qui potete vedere vediamo se ce la facciamo quello che ha appena prodotto ecco let's publish chissà perché viene questa immagine interessante India tipo direi Kindle siamo a tema e questa è possibile acquistarla immediatamente a 3 dollari e magari potremmo tenerla come souvenir della della giornata il secondo esempio che è più vicino a quello di editoria come forma è un progetto contemporaneo di un artista statunitense che si chiama Paul Sollellis il progetto si chiama Library of the Printed Web e il concept è molto semplice Sollellis raccoglie attraverso il suo giudizio libri cartacei che contengono in un modo o nell'altro contenuti del web rimediati per il cartaceo qui abbiamo un catalogo che ha presentato alla Biennale di Venezia in cui contiene tutti i libri inclusi finora è anche molto interessante il tipo di soluzione che utilizza per portare la libreria di volta in volta nelle varie fiere che è questa scatolina in legno molto molto fisica molto concreta e provo a dire la mia su questa questione su queste due due visioni dell'editoria io credo che in un certo senso una possa beneficiare dall'altra ovvero non bisogna demonizzare le tecnologie perché standardizzano il processo bensì bisogna apprezzarle o quantomeno apprezzare la possibilità di concentrarci sulla selezione di contenuti e sulla possibilità di dire la nostra come come curatori in un certo senso spostare il nostro mestiere di editori a un livello più magari direi concettuale non so e concludo questa questa sezione con una con una definizione di editoria che secondo me è molto simile a quella proposta da Saria di una casa editrice on demand che ha sede sia negli Stati Uniti che in Canada si chiama Publication Studio e definisce Publication Studio definisce l'atto il publishing però nel loro caso Publication per l'appunto non tanto nel pubblicare un dato contenuto bensì al contrario nel costruire nel produrre un pubblico per quel contenuto perché è questo ciò di cui abbiamo bisogno nel momento in cui possiamo pubblicare il libro in un minuto creare una sorta di pubblico che può essere interessato a questo contenuto attraverso un dialogo e loro come fanno? lo fanno attraverso tre canali uno è la produzione fisica il secondo è la circolazione digitale ma soprattutto il gathering l'incontro l'insieme sociale dunque lavorano su questi tre canali e secondo me in un certo senso mettono insieme il meglio dell'antico e il meglio del nuovo bene passo la parola a Silvio no su serio ci sono domande perché non vi abbiamo effettivamente abbiamo saltato un passaggio l'idea era quella che siete liberi di intervenire quando volete abbiamo il microfono e dato che sì è dato che comunque dovremo parlare per quattro ore sarebbe anche più facciamo una pausa sì sì facciamo una pausa però comunque sarebbe no 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 dopo faremo una pausa prima o poi no vogliamo vogliamo la domanda vogliamo la domanda però insomma anche per rendere un po' più dinamico più conversazione il tutto sentite no non dal microfono ma va bene intuiamo prova prova sì allora riguardo l'autopubblicazione no quando ci si affida ad una piattaforma che si preoccupa della distribuzione e quindi anche dell'aspetto economico e diciamo anche legale quello che la domanda che mi sorge perché insomma ho fatto dei piccoli progetti di autoproduzione per sostenere nelle scuole i laboratori di lettura e mi sono sempre posta devo essere un'associazione devo registrarmi alla camera di commercio devo andare in un ufficio per insomma legalizzare la mia attività per poter vendere le copie non necessariamente allora si può richiedere un ISBN ed è un qualcosa che chiunque può fare sia come persona fisica sia come persona giuridica si paga un ricordo tipo 100-150 euro e si possono acquistare da 10 blocchi di 10 100 o addirittura tipo 10.000 titoli ora non ricordo esattamente quindi diciamo la possibilità legale di essere riconosciuti come editore dal sistema nazionale dal sistema bibliotecario di distribuzione soprattutto sì alla portata di tutti e anche economica perché non è un investimento considerevole però avere un ISBN a mio avviso non è sempre una necessità cioè ce ne può fare a meno personalmente nel caso di Zabar abbiamo realizzato alcune pubblicazioni con ISBN e altre senza paradossalmente quella senza ISBN è quella che abbiamo realizzato per una casa editrice che invece ha tutta una produzione distribuita nazionalmente però in quel caso si trattava di un progetto diverso che spiegheremo dopo e loro hanno ritenuto non opportuno dotarsi di un ISBN per quel titolo ho capito sì c'è anche la possibilità di ottenere un ISBN gratuito e ci sono piattaforme che lo permettono ad esempio lulu.org con cui lulu.com ovviamente perché è una compagnia con cui è stato realizzato ad esempio questo libro che ho fatto io e ha il suo ISBN vendibile in maniera legale non c'è la necessità che io sia effettivamente un editore diciamo a livello ufficiale la piattaforma lulu.com lulu ne parleremo comunque fra un po' credo a fare